Ho conferito con un decreto sindacale a Flavia Sorrentino il ruolo di coordinatrice, referente, responsabile di questo grande progetto di Napoli città autonoma. Quindi per andare a scrivere un manifesto, una carta, un processo costituente che dia autonomia fiscale, tributaria, amministrativa, organizzativa, istituzionale e politica alla nostra città. Con la nomina di Flavia Sorrentino, portavoce di Mo Unione Mediterranea, coordinatrice del progetto Napoli città autonoma da parte del sindaco Luigi De Magistris, Napoli rivendica un sistema di autonomia, statutaria, amministrativa, finanziaria, necessaria al riscatto e alla riscoperta della propria identità. Il progetto, in antitesi con quello di revisione costituzionale del governo, coinvolgerà giuristi, storici, economisti e si pone come obiettivo la costruzione di un manifesto costituzionale che stabilisca i diritti degli abitanti di Napoli. Nell'ambito del percorso sarà avviato anche un lavoro di revisione della toponomastica storica cittadina. Abbiamo cominciato a farlo in questi anni, vogliamo continuarlo a fare, crediamo molto nella sovranità popolare, nell'autogoverno, nell'autogestione, quindi non è contro qualcuno, è per un progetto di Italia che è sì unita e indivisibile, che però valorizza veramente le autonomie e le differenze. Prima città del terzo millennio e forse prima città dalla Costituzione repubblicana che ha l'obiettivo di ottenere un'autonomia piena, un'autonomia piena che abbia la forza nei suoi abitanti, nelle tradizioni, nelle radici e nella capacità di innovazione di questa città, che vuole contribuire anche a costruire un Mediterraneo in Europa in cui prevalgano giustizia, solidarietà, uguaglianza, convivenza, valorizzazione delle differenze e una forte lotta contro le ingiustizie, contro le guerre e contro le violenze perpetrate anche nei luoghi vicini alla nostra città. Quindi Napoli sempre di più, anche capitale da questo punto di vista del Mediterraneo. Fino ad oggi di competenza del sindaco, la delega all'autonomia della città viene oggi affidata a Flavia Sorrentino, che entra a far parte della squadra di governo, pronta a fornire la propria collaborazione a titolo completamente gratuito. La prossima sfida che impegna però seriamente la città di Napoli da qui ai prossimi cinque anni è una sfida alta, ambiziosa. Noi partiamo dalla realizzazione e dalla concretizzazione di un manifesto che dia pieni poteri e piena autodeterminazione a Napoli, città finalmente autonoma. Una Napoli che attraverso l'autonomia riesce a riscattarsi dal punto di vista economico, sociale, culturale e politico, che finalmente ritrova l'identità, il senso di appartenenza e l'orgoglio di essere fieramente cittadini napoletani, ma una Napoli anche che torna a credere nelle sue potenzialità, diventa protagonista del proprio destino e rappresenta da capitale l'intero sud e l'intero mediterraneo. Io penso sinceramente che il sud abbia bisogno di una voce di riscatto e da Napoli partirà questa, sarà Napoli, Napoli capitale, megafono di tutti i diritti di giustizia sociale e di tutti i diritti che i cittadini del sud, purtroppo, si sono sempre visti negare, anche da politiche nordcentristi o comunque politiche centraliste che non hanno fatto il bene del sud, da qui, da Napoli, parte il riscatto non solo del mezzogiorno ma dell'intero mediterraneo.